Buongiorno a tutti, sono il dottor Allegrini Bartolomeo, faccio parte del comitato scientifico insieme al professor Fionanelli, al professor Spaggiari e al professor Miceli della scuola di alta formazione in epigenetica, biofisica e nutrizione applicata. Siamo qui in Luligiana al termine di un weekend formativo e il mio invito è proprio accogliere l'interesse che questa scuola può portare per la progressione e la cura dell'essere umano. È un interesse verso un modello di medicina che vede l'uomo come protagonista, una medicina antropocentrica, una medicina che in futuro avrà bisogno, per poter garantire una salute più vera, di andare a accogliere quelle che sono le basi di sviluppo delle malattie, perché ci stiamo accorgendo che non basta più solo curare, ma è necessario prendersi cura. La scuola di alta formazione mira questo, mira proprio a umanizzare, a personalizzare e a integrare una serie di informazioni che verranno esplicate attraverso una serie di lezioni che verranno condotte da brillanti professionisti del settore. Permetterà a questo di entrare in connessione con un mondo, un mondo che non sia condetta di quello visibile, ma va oltre, va oltre e va a cercare quelle che sono le cause, quelli che sono i fattori, spesso tra di loro interagenti, nel gestire la nostra salute e che mette in difficoltà moltissimi di noi, perché moltissimi di noi poi hanno difficoltà a comprendere come curarsi e quindi è un'ottima possibilità che questa scuola vi dà per crescere, per formarvi, per permettervi di evolvere come esseri umani e anche chiaramente come terapeuti.